Salve a tutti ragazzi, sono qua con Mustang Interista per l'ennesima volta, oggi siamo qua per giocare di nuovo e chi parte? Io ti dico che ho fatto un quiz a tinte nera azzurre, quindi farò molte domande sui giocatori dell'Inter e da chi partiamo? Vediamo un po'. Partiamo da Barella, secondo me Barella è un bel po' che lo sento in orbita Inter, più di 20 anni sicuro, però meno di 25 mi sembra, non mi ricordo quando l'ultima volta, mi sembra che è passato all'Inter a 22 anni, 23, quindi se non vado errato ne ha 24. E invece hai sbagliato, è un 97, quindi ne ha 25. Va bene, ci sono andato vicino. E' andato per un anno, ma io su queste cose sono negato, quindi vedi te. Pensa che volevo farlo con l'altezza, ma ho detto magari no, perché magari un sito mi dice che è alto 1,81 m un calciatore e magari un altro mi dice che è 1,82 m, quindi. Poi anche con l'altezza è troppo difficile, secondo me. Ok, dai, gioco a te. Pensa che qua è Rugani. Rugani, eh, questo non è facile. Secondo me, non ha ancora 30 anni. Dai, ci provo, ha 28 anni. Mannaggia, e meno male che è riscarso, cioè, hai indovinato? Grande. Ma sai che sinceramente, io quando ho guardato un po', ho scritto su internet, età, giocatori, ho visto Rugani e ho detto, ma veramente? Cioè, io pensavo avesse almeno 30 anni ormai, perché era tantissimo che ormai gioca in Serie A. Io invece ho detto, secondo me, mi manca ancora poco per i 30, infatti, dai, ho azzeccato. Sono curioso adesso, per il tuo. Adesso, se io te lo fai tutti dell'Inter, non te lo fai. Adesso io ti chiederò invece, tu, Frizz. È giovane, intanto, questo sì. Sicuramente non ha 30 anni. Ma sai che qua sono troppo indeciso? Non è facile dargli un'età, infatti. Per questo l'ho scelto. È perché io sinceramente non ho mai guardato l'età di Danfries. Forse potrebbe avere... Certo, sono indeciso, ma più o meno siamo tra i 23 a 27. Minchia, sono cinque anni. Ti dico... Ti dico 26. Bravo, hai preso, 26. Alla mia età. E siamo 1 a 1. Eh sì. E quindi, aspetta, perché adesso ti sorprendo, perché ho scelto un calciatore che è appena arrivato alla Fiorentina. Che è Barak. Barak. Eh, non so che è ancora giovane Barak. Secondo me, forse non è neanche 25 ancora. Dai, ci proviamo. 23. Ho sbagliato. Ha 27 anni. Così tanti. Non gliene davo così tanti. E pensa che qua c'era un trabocchetto, perché potevi sbagliare facilmente, perché ha 27 anni, ma a dicembre ne fa 28. Quindi se mi dicevi 28, eh no. Ne ancora 27. Ah, ecco, vabbè, comunque sì, ho sbagliato di tanto. Non gliene davo così tanti, sai, gliene davo meno. Quindi siamo ancora 1 a 1. Adesso io invece ti faccio Epic Broddo. Sicuramente, ma secondo me siamo attorno ai 30. E secondo me ne ha 31. No, 30. Non ne zecco mai, quasi. Non è facile. Ma li ha compiuti da poco? Sì, mi pare li abbia fatti, lui è un 92. Quindi mi sa che, o se non li ha compiuti ne ha 29, quindi comunque hai sbagliato. Pensavo fosse una fregatura, tipo la mia di prima, ma a quanto sembra no. Comunque ho sbagliato, c'è poco da fare. Questo qua invece è un fenomeno, almeno un calciatore che secondo Allegri era fenomenale, che poteva giocare ovunque, è diventato meme ormai da molto tempo e sta parlando di decidio. Ok, anche qua secondo me siamo sulla trentina. Dai, adesso ti dico, fammi pensare. Sbagliato, perché ne ha 29. No, ma no. 29, ma aspetta perché anche questo era tra pochetto, perché ad ottobre ne fa 30. No, che sfortuna. Cioè, proprio per pochi mesi hai sbagliato. Ma che sfortuna, mamma mia. Adesso... Adesso... Allora invece adesso io ti chiedo... Sono sicuro che ti vuoi vendicare adesso. Adesso io invece ti chiederò... Beh, Lukaku ti chiedo. Eh, oh... Cioè, alla fine non è proprio così... Non mi viene proprio spontaneo, eh. Perché io ti dico che secondo me siamo sui trenta anche per lui. Ma prima ho detto siamo sui trenta, ho detto trentuno, adesso ti dico ventinove. Eh, ci hai preso a ventinove anni, è un novantatré. Che goduri fa. Quindi siamo due a uno e ti stanno battendo. Sì, maledetto decilio. L'incubo dei nerazzurri. Ah, vai. Eh, poi questo è un calciatore che ha fatto tanto. Ha fatto tanto nella sua carriera, ha vinto tanto. Ha giocato nel Barcellona, in un tridente favoloso. E mi sa che hai già capito forse chi. Sì, se ne so sia. Eh, Iniesta. Ah, Iniesta. E pensa che gioca ancora. Eh, Iniesta gioca ancora, infatti. Eh, però sai che non so dirti quanti anni... Eh, gioca al Bissell Kobe, mi sembra. Secondo me ha... Dai, ci provo. Secondo me siamo anche sopra i 35. Secondo me ne ha 37. Hai sbagliato ancora. Ne ha 38. No, di uno. Sbaglio di uno, però. Cioè, vera, veramente. Eh, allora, io sinceramente pensavo ne avesse una quarantina ormai. No, io sapevo che eravamo tra i 35 e i 40. Va bene. Intanto sto in vantaggio. Eh, niente. sbaglio di uno. Vabbè, dai. Adesso ti chiedo invece uno che non hai visto tanto, l'abbiamo anche nominato prima. Ti chiedo Onana. Eh, Onana mi ricordo all'Ajax. Era giovane. Però ormai non è mica più tanto giovane, secondo me. Cioè, perché io dico sempre, Onana, cioè, nella mia mente è sempre giovane. Ma gli anni passano, come anche, mamma mia, cioè, come anche Dybala, che a me sembra sempre giovane, ma ormai ha 30 anni. E quindi ti dico che Onana, secondo me, ormai, se non ha 30 anni, veramente, cioè, ne ha 29, 28. Quindi, secondo me, ne ha 29. No, alla mia età, 26. Come tu, Chris? Oh, per una, questa volta ne ho sbagliato, ma l'ho invecchiato troppo. Eh, sì. Eh, quindi non serve mica male. Un futuro all'Inter ci potrebbe stare. Eh beh, certo, sì. Poi un portiere a 26 anni è giovane. Quindi, il prossimo è un calciatore che ha fatto degli anni strepitosi. Record di gol in Serie A. Ha fatto un paio di anni brutti, poi. e poi è andato all'Inter Miami e non se ne sente più parlare. Ovviamente sto parlando di Gonzalo Higuain. Ah, Higuain, Higuain. Eh, sembra vecchio, eh, ma... Secondo me, esatto, non è così vecchio come dimostra. Guarda, voglio, dai, proviamo ad andare con un numero alto, ma non troppo alto. Eh, gli do 35 anni. Anche questo era un trabocchetto. Perché in realtà ne ha 34. Non ha ancora compiuto i 35. I 35 li fa a dicembre. Eh, mamma mia, oh, che figa, le ho sbagliate tutte per un... Per mesi, neanche per un anno, per mesi. Eh, oh. E sono in vantaggio lì. Eh, vabbè, ma adesso ho l'ultima Iro e poi l'ultima tu. Vabbè. Sendo, vedi, questa è lì. Ah, vero, sì. Ti chiedo l'altro componente della Lulla, io ti chiedo Lautaro. Lautaro è giovane. Secondo me siamo sui 25 anni. Eh, aspetta, devo cercare di ricordarmi in FIFA. Allora, in FIFA 18 mi sembra che non era l'Inter. No, non era l'Inter. Eh, PES 2019 mi sembra nemmeno. E comunque, se non vado l'errato, l'ultima volta che l'ho visto aveva... Vabbè, eh, oh. Facciamola veloce qua. Io provo a sparare tanto, tanto sono in vantaggio, quindi... Secondo me... Ne ha 25. Ecco, hai azzeccato 25. Gli ha compiuti da poco oltretutto, vedi? Quasi stato fortunato. Gli ha compiuti... Oh, sei sbagli per mesi. Il 22 agosto li ha fatti, quindi... Hai avuto fortuna in questo. Eh, oh. E siamo 3 a 1. Eh, vabbè, ho perso, quindi... Ma ti voglio dare una possibilità. Se indovini questa... Hai... No, non mi rischio 3 punti. No, non voglio perdere così... Però 2 punti, sì. Per un pareggio. Vai. Allora, questo è un calciatore che gioca attualmente in Serie B. Ha esordito con il Genoa in Serie A e ha fatto un'ottima partita in Coppa Italia contro la Juve. Sto parlando di un calciatore del Benevento che ha giocato per molti anni al Cittadella. Ed è... Paleari. Eh, a questa non la so. Non la so quando... Non ho più quali d'idea questo. Per questo ho detto, io qua posso dargli anche due punti minimo perché tanto... Difficile, a questa è difficile. Ho la vittoria in tasca. Questa è difficile. Ma... Vuoi un indizio? Dai, 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 un piccolo indizio perché questo è difficile. Allora... Quale indizio è che... Che più o meno... Si aggira attorno ai 30 anni? Eh, quello che pensavo io, questo, quindi... Secondo me, però... Pensando alla sua faccia, perché io penso alla faccia in questo momento, sembra più di 30 anni. Io provo con 32, dai. E la tua risposta è quella definitiva? Eh, vabbè, sì, ci provo anche perché non la so. Sbagliato. Ne ha 29. E godo perché ho vinto 3 a 1. Ma dai, ma la faccia da più vecchio? O 3 a 1 ti ricorda qualcosa? La Lazio, esatto. Ragazzi, io sono veramente soddisfatto. E sono all'altezza della Lazio. Quindi, se volete, prendetemi pure. Sapete, gioco anche gratis. Alla bassetta di Zaghi, invece. Anche come porta borracce, se volete. Stato con i trabocchetti, mamma mia. Quindi, ragazzi, lasciate like, mi raccomando. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo, mi raccomando. E ditemi sotto nei commenti se volete altri giochi. Magari sempre con Mustang, interista. Sempre se lui vuole ancora partecipare a questi giochetti. Oppure, anche ad altri YouTuber. Ma fatemi sapere chi volete sotto nei commenti. Io ringrazio, come sempre, Mustang. In altre schede video precedenti. Sotto in descrizione, link per seguirmi su Instagram. E negli altri miei due canali YouTube. Ditemi anche, ovviamente, se volete che torni su Twitch. Vi saluto, vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo video. E sempre forza Lazio.